No, io credo come analisi sia corretta. Diciamo che oggi è stata una partita un po'... che se avessimo buttato dentro magari un pallone, parleremmo di una partita diversa sicuramente. Al tempo stesso nel finale abbiamo anche rischiato perché abbiamo perso qualche pallone di troppo che non andava perso. Però secondo me la prestazione c'è stata e noi abbiamo dato il massimo fino alla fine. Non penso neanche che sia qualcosa di mentale. Secondo me, ripeto, siamo rammaricati perché abbiamo pareggiato, però non la reputerei una sorta di crisi. Noi anche nella spogliatoia ci siamo parlati, ci siamo detti che comunque tutti abbiamo dato tutto fino all'ultimo. quindi pensiamo subito alla prossima partita e andiamo là per vincere. Diciamo che i fischi non fanno mai piacere, però ci siamo detti che, come ho detto prima, abbiamo dato tutto fino all'ultimo. Quindi noi siamo rammaricati per non aver preso i tre punti, ma siamo consapevoli di aver dato tutto fino al novantesimo. Chi ha giocato e chi è entrato. Quindi i fischi li accettiamo perché fanno parte del gioco, i tifosi giustamente non sono contenti. Quando arrivano i tre punti noi stessi non siamo contenti, però da martedì ritorniamo a lavorare con la testa giusta per domenica. Sì, siamo riusciti, nonostante anche qualche pallone in inferiorità numerica, a mettere qualche pezza e mi sono trovato bene e sono contento di essere ritornato in campo. Quindi questo qua. Sì, gennaio è sempre un mese abbastanza delicato, come hai detto tu. Dobbiamo essere bravi a cercare di tapparci le orecchie. Non è sempre facile, perché comunque le voci sono tante, però dobbiamo essere veramente bravi a cercare di compattarci e di non pensare a nient'altro se non al campo. Grazie a tutti.